Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi vi voglio fare un regalo perché vi metterò qua sotto scaricabile il mio salvataggio di gioco esattamente quello che vedete nei video, quindi ci sarà il mio personaggio principale, ci sarà i secondari ci sarà anche Zoro che è un personaggio che ha tutto ed è una terza run c'è anche un altro personaggio completo che si chiama Elden Lord se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video io vi ricordo comunque che qua sotto trovate anche gli abbonamenti e i super grazie per aiutarci in quello che facciamo e supportare il canale attivamente allora ragazzi che cosa bisogna fare per avere tutto quello che serve compreso il mio salvataggio niente di difficile, mi vedete guardare in giro perché ora passerò ad un'altra schermata che non avete mai visto ovvero il mio computer allora ragazzi siamo nella mia schermata di internet bisognerà andare sul sito che vi metto qua sotto in descrizione che è omonimo del nostro canale che è Top Games, se non lo sapevate abbiamo anche un blog online andate sull'ultimo articolo che ho creato che trovate qua sotto in descrizione che è Elden Ring, vi passa i miei salvataggi di gioco con tutto scorrete e troverete qui sotto due link uno è il programma per spostare i salvataggi e riscrivere i mostri l'altro è il file contenente i miei salvataggi sul primo quando cliccherete vi dirà che il programma non viene scaricato spesso potrebbe essere pericoloso ragazzi è un mio salvataggio ok? quindi è normale che succeda è sul mio sito internet non vi preoccupate fate conserva e avrete il programma una volta fatto questo scaricate anche i miei salvataggi che questa volta vanno lisci e prendete entrambi e spacchettateli in una cartella che vi pare sul desktop allora a questo punto non c'è niente di difficile avete i due file uno è il programma e l'altro è il salvataggio quindi avviate il programma nella prima voce andate a mettere il file che vi ho consegnato quello che avete downloadato e scompattato dopodiché andate in destination files che è il vostro salvataggio il vostro salvataggio si trova nei meandri del vostro pc dovrete andare su questo computer C utenti Andrea nel mio caso perché è il mio computer il vostro avrà un altro nome a questo punto fate molto semplicemente se avete la cartella nascosta come è il mio caso uno slash verso sinistra app data e spremete invio e avrete l'accesso alla cartella app data roaming e a questo punto entrate in Elden Ring qui troverete l'altro file il vostro salvataggio quindi una volta che sarà caricato e avviato troverete a sinistra tutti i personaggi che vi ho passato io e a destra i vostri se non volete sovrascrivere un vostro personaggio semplicemente selezionate uno slot vuoto da qua selezionate Elden Lord che è quello più completo se poi volete Zoro o un altro personaggio ragazzi li ho messi in modo che siate liberi di fare quello che volete fate copy a questo punto avviate il gioco il gioco vi chiederà a questo punto di scegliere tra il vostro salvataggio in cloud e quello che avete sul computer dovete scegliere quello sul computer perché è quello aggiornato in questo sistema con questo sistema quindi non mi resta che augurarvi buon divertimento ragazzi la cosa è molto semplice evitate comunque di passarvi oggetti tra un personaggio e l'altro se volete fare test prove potete giocarci anche online sfruttate questi personaggi qui non ci sono problemi alcuni l'unica cosa magari fate un salto alla tavola rotonda e cambiate il nome al personaggio perché sennò giochiamo tutti con lo stesso nome e diventa un gran casino se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre giornate sull'uscita dei nostri nuovi video e se avete piacere di supportare il canale attivamente vi ricordo che qua sotto ci sono gli abbonamenti e i super grazie ciao a tutti